Chiamo il direttore Chies Che ci porterà un'altra esperienza Delle buone pratiche Che siamo in grado di esibire Posso dire già quasi buonasera Scusate, è stata una giornata lunga Parliamo di plastica Questa materia sotto inquisizione Che dobbiamo gestire E non possiamo farne più o meno Innanzitutto la parola plastica in italiano È troppo generica E non dice praticamente nulla Potrebbe dire plasmabilità La plastica ha quel grande pregio Di essere duttile, trasformabile Si fonde come un metallo Però con un costo energetico nettamente inferiore E assume le forme che qualsiasi altro materiale Gestito dall'uomo non può fare L'unica descrizione vera e propria Che traduce il termine plastica Nel vero senso della parola È il tedesco Che la chiama Kunsthof Cosa vuol dire Kunsthof? Vuol dire materiale artificiale È qualcosa che ha fatto l'uomo E che pertanto L'uomo è stato protagonista Che ha inventato Ormai migliaia di tipologie di plastica Perché appunto Ci sono tantissimi polimeri Tecnopolimeri Biopolimeri E quant'altro Che comunque Devono essere trattati In modo speciale L'uomo li ha creati E l'uomo non può disfarsene L'uomo deve saperli gestire Premetto che non facciamo bottiglie C'è una fotografia Che dopo capirete alla fine Perché è là Dove siamo? Siamo a Fiume Veneto Come sede Però abbiamo un grosso stabilimento Nella nuova sede Dell'Interporto di Pordenone Dove ieri è stato inaugurato Il nuovo sito Di carico scarico Di trasporto Su media lunga distanza È una occasione eccezionale per noi Perché abbiamo una movimentazione Di moltissima merce Per un grosso partner cliente Noi produciamo più di 1200 pallet al giorno di prodotto Che va in tutto il mondo E solo per quello Nel totale facciamo 2300 pallet al giorno di materiali Quindi la nostra locazione Nel nuovo sito dell'Interporto È stata assolutamente richiesta Spinta E fortunatamente ottenuta Nel modo in cui abbiamo creato Una filiera breve Corta Nella gestione Della circolarità E della riduzione della CO2 Ad oggi i dati dell'azienda Ha compiuto tre anni fa i 50 anni Nata nel 66 Ha 260 operatori Ha circa 150 presse Che variano dalle 50 Alle 2000 tonnellate di potenza 50 sono dedicate nel nuovo sito produttivo Su cui concentrerò l'esposizione delle novità Abbiamo un totale di 25.000 metri quadri produttivi E altri 18.000 di magazzino prodotto finito Abbiamo un fatturato budget di quest'anno sugli 83 milioni di euro Le principali aree di intervento dove noi produciamo prodotti È il food packaging Il packaging alimentare Le applicazioni industriali Su grande scala Abbiamo circa 70 clienti Vorrei dire quasi con 70 prodotti diversi O categorie di prodotti E quindi i prodotti della casa L'home design Vado via sparato per un po' di dati 2.000 stampi in utilizzo 18.000 pallet in stock 300.000 pallet movimentati l'anno scorso Quasi 12.000 referenze di articoli che produciamo E l'anno scorso prodotti l'uno per l'altro Dal pezzo più piccolo che produciamo Che pesa 0,02 grammi Al pezzo più grande che ne pesa 7 chili Abbiamo prodotto un miliardo di pezzi L'attività aziendale Disegna, produce, sviluppa stampi E quindi produce i pezzi in plastica I prodotti in plastica Ha un processo completamente chiuso Nel senso che partiamo dalla ricerca e sviluppo Cosviluppiamo prodotti con i clienti Sviluppiamo gli stampi E arriviamo fino alla produzione di serie Su grande serie, su grande scala Con grandi automazioni I tre campi di applicazione principali Appunto sono Il food packaging Oggi fortemente inquisito Perché tutti pensano che il food packaging Sia l'unico prodotto che va a finire in mare Che va a inquinare le nostre spiagge Che fa i danni che sta creando O che ha fatto negli ultimi 50 anni Lo è così in buona parte Devo dirlo Oggi, grazie a Dio Con la raccolta differenziata L'Europa è responsabile Dell'inquinamento dei mari Solo del 2% Nel mondo L'unico vero grande inquinante Del mar Mediterraneo oggi Rimane il fiume Nilo Che trasporta ancora qualche decina Di migliaia di tonnellate L'anno di rifiuti nel nostro mare Il resto fortunatamente È già raccolto e riutilizzato Almeno l'Europa Ma ci sono gli altri grandi fiumi Gli altri sei fiumi nel mondo E il primo è il Gange Che sta scaricando ancora tutt'oggi Una montagna indescrivibile di plastica Che va a finire nel mare E questo perché Non è colpa della plastica È colpa dell'uomo Che non la sta ancora raccogliendo E riutilizzando per come va fatto Parlo dopo del packaging alimentare Poi abbiamo l'area tecnologica Abbiamo 4 siti produttivi Per cui sono quasi specializzati Per categorie di prodotti Packaging alimentare Qualificato con BRC Certificazioni eccetera Tecnologico Dove facciamo tutta la componentistica tecnica Dai contatori d'acqua Con radiofrequenza Alle ventole A sistemi di raffreddamento e riscaldamento E poi abbiamo l'area on design Tutti i materiali che noi adoperiamo Per il food packaging A tutt'oggi Sono vergini Di origine fossile Sfortunatamente Ma stiamo sperimentando Molti materiali Di derivazione bio Che poi lo siano biocompostabili O siano solo di derivazione bio È un'altra questione Sono due categorie diverse Però sicuramente Tutti i prodotti che noi utilizziamo Sono nuovamente riciclabili E questi lì entrando nella filiera Della raccolta differenziata Sicuramente possono essere riutilizzati n volte Per esempio le stesse etichette Che noi alleghiamo Con i gusti Con i barcode Con le referenze La lingua E quant'altro Il prezzo La promozione Che è già collegata Nel contenitore E nel copergio Di fatto Sono anche loro Fatti in polipropilene Quindi Per agevolare La riciclabilità Poi facciamo Componenti Di tutti i generi Da vestire Le macchine da caffè Macchine Industriali Professionale Questa è una macchina Che il nostro cliente Electrolux Professional Ha un Un tostapane Professionale Che si trova distribuito Su tutte le grandi catene Delle autostrade Nonché anche altri posti E noi facciamo Tutta la vestizione Di questi prodotti Qua Settore termoidraulico Riscaldamento Voi mi direte Fate i bruciatori Di plastica Sì Oggi Grazie alla tecnologia Innovativa Della condensazione Tutti i rivestimenti E tutti i condotti Degli scarichi Di gas Sono fatti In materiali plastici E hanno Un grossissimo vantaggio Che pesano molto meno Costano molto meno E permettono Di avere anche Un'estetica Che altrimenti Con i metalli Sarebbe difficilmente Ottenibile Poi abbiamo Un grosso cliente Storico Per cui costruiamo La componentistica Del tessile E così Elettromeccanica E quant'altro Ventilazione Eccetera Nell'home design Facciamo tantissimi Particolari Nelle sedie Braccioli E quant'altro Che non sono più Di semplici componenti In plastica Ma sono delle vere macchine Perché hanno 3, 4, 5 movimenti L'home design E l'home organization È quello Che per il nostro Cliente principale Per il quale Costruiamo Una veramente Una quantità Abnorme Di prodotti E non solo Questi sono i prodotti Per il cibo Per la cucina Che sono Riutilizzabili N volte Quindi questi sono Prodotti Durevoli Durevoli Che durano 10-20 anni Così Parlare Bambini Le nostre Certificazioni ISO 9000 Da 20 anni BRC Etico E qualificazioni Di tutti i nostri clienti Il nostro sistema Di sviluppo Con K3D Con K3D Eccetera E quant'altro Vado via veloce Perché voglio arrivare Al punto I sistemi di sviluppo Degli stampi I tipi di stampaggio Da monomateriale A doppio Triplomateriale Con iniezione a gas Per alleggerimento Dei pezzi Iniezione sequenziale O sovrainiezione Il nostro sviluppo Economico Nel corso Degli ultimi 10 anni Praticamente abbiamo Più che raddoppiato Il nostro volume D'affari Un'azienda Che esporta Come adesso vedrete A parte La distribuzione Dei vari prodotti Nelle varie aree Quindi L'home design Ricopre circa Il 50% Di nostri prodotti Poi abbiamo L'area Del gelato Ice cream Dairy I latticini E via L'affrazionamento Di tutti gli altri tipi Siamo un'azienda Che esporta Il 72% Direttamente all'estero Ma anche il 28% Che vendiamo in Italia Nell'arco di 6 mesi Se ne va all'estero anche lui Quindi diciamo Che noi Direttamente Indirettamente Esportiamo Tutto quello che produciamo Una Panoramica Dei nostri clienti Food packaging A sinistra E tutta la parte Tecnologica A destra Per il sociale Ci spendiamo Presto e molto Nelle attività Locali Con sponsorizzazioni Anche di due squadre Di sci E di triathlon Unche di rugby E qua Arriviamo Al grande passo Che l'azienda Ha intrapreso Già Dal 2014 A dire il vero Partiamo Dall'agrement Di Parigi Che è Una tabella Fondamentale Di uno degli standard Definiti Negli obiettivi Cioè Entro il 2030 Ridurre l'emissione Del CO2 Del 30% Entro il 2050 Del 72% Per far sì Che la temperatura Non aumenti Oltre il grado e mezzo Ormai non ci siamo più Con questo Dobbiamo accelerare Ulteriormente Per poter Raggiungere questi risultati Addirittura Il 2030 È stato anticipato Il 2025 E il 2050 Il 2040 Con questi target Altrimenti La temperatura Se ne va alle stelle Quindi l'azienda In collaborazione Con il nostro partner Svedese Che immagino a voi Chi può essere Che è un grande Maestro E di una grandissima Lungimiranza Visto che Anche ieri Ho fatto un assessment Sulla sostenibilità Che mi è durata Quattro ore Solo come review Trimestrale Di quello che stiamo facendo Abbiamo dovuto definire Una road map Una road map Importantissima Che parte Da riduzione Dei consumi energetici Di efficienza energetica Riduzione massiccia Della CO2 Riduzione del consumo D'acqua Malgrado noi Viviamo in un'area Ricchissima d'acqua Nel nostro sottosuolo Abbiamo falde Con grandissima disponibilità Acqua che noi Di fatto Non consumiamo Ma utilizziamo Per il raffreddamento Di nostri impianti Acqua che fino A poco tempo fa Prelevavamo Riscaldavamo Di due gradi E riversavamo Nel fiume Con tanto Di certificato Di disponibilità Perché non avevamo Assolutamente Presenza di alcun Inquinante Però adesso Abbiamo sviluppato Una nuova tecnologia Che vedrete Riduzione degli scarti E degli sprechi Soprattutto E quindi anche Contenere Gli scarti Di produzione Andare Sui materiali Riciclati E da fonte Rinnovabile Il sempre Più Il cosiddetto R&R Che è Recycled And Renewable Nonché Efficienza distributiva E dei trasporti Per riduzione Della CO2 Allora Innanzitutto Noi dal 2014 Usiamo esclusivamente Energia Fonte rinnovabile Tutta Abbiamo 15.000 m2 Di fotovoltaico Ma purtroppo Contribuisce Per il 6% Del nostro fabbisogno Siamo altamente Energivori La plastica Ha questo grande Handicap Di doverla Surriscaldare E dopo 5 secondi Raffreddarla Per fargli Prendere la forma Quindi Grosso impatto energetico Dal punto di vista elettrico E Poca Recupero Dell'energia Perché il raffreddamento Deve venire A un delta termico Abbastanza basso Sui 2-3 gradi L'acqua entra O il circuito Chiuso Dentro lo stampo A 20-22 gradi E se ne esce A 25-26 Allora Energia Fotovoltaica Improprio E tutto il resto È da fonte Rinnovabile Vole a dire Idroelettrica Noi acquistiamo L'energia Direttamente Da una diga Abbiamo fatto Un contratto Addirittura Fino al 31 dicembre 2020 Il nostro Consumo energetico Come vedete Diviso sui 4 stabilimenti È in continua Crescita Parallelamente All'industria E la crescita Aziendale E Ripeto Nel 2018 Abbiamo consumato 24 gigawatt Di popenza Siamo la quarta Azienda Nei friuli Come consumo Energetico Però Abbiamo Migliorato Costantemente L'impatto Dell'energia Sul nostro Turnover Vale a dire Che abbiamo Efficientato I nostri impianti Sempre più Riducendo di un punto Grosso modo L'impatto energetico Sul costo del prodotto Così anche Nell'acqua Il risparmio Dell'acqua Da un prelievo E uno sversamento In superficie Siamo passati A gestire Il geotermico Vale a dire L'acqua Non viene Tolta Dal sottosuolo E messa Nel circuito Ma il circuito Interno Di raffreddamento È isolato E ha Uno scambiatore Così come È il circuito Che va In falda Preleva Passa Attraverso Lo scambiatore E si ritorna In falda Direttamente Senza nessun Scambio Se non Il delta Termico E qua Adesso parliamo Dei materiali Ovviamente Non è Uno slogan Quello di dire Togliamo le bottiglie Dal mare Togliamo la plastica Dal mare Ma sicuramente Il nostro grande Progetto Che abbiamo iniziato Nel 2014 È quello di Utilizzare Il PET Riciclato Vale a dire Le bottiglie Che è una quantità Abnorme Pensate che nel mondo Ogni anno Vengono prodotti Circa 36 Milioni Di tonnellate Di PET Per fare Bottiglie Che contengono Bevande Che sia acqua O altre Bevande Questo è il consumo La raccolta Differenziata Ci permette Attraverso Una filiera Creata Di portare A casa Una quantità Molto grande E increscendo Di PET Riciclato Per generare Nuovi prodotti Quindi noi Non ricicchiamo I prodotti Nostri Ma Riutilizziamo Prodotti Scarti Dal mercato Appunto Le bottiglie Raccolti Dal sistema Corepla E quindi Trasformandoli In prodotti Nuovi Altra fonte Sono le rinnovabili I materiali rinnovabili Che sicuramente Ci sono progetti Su grande scala A livello planetario Ci stanno lavorando Grandissime Multinazionali Lo stesso Nostro cliente Svedese Sta investendo In proprio Per provare Trovare Questi materiali E già ce ne sono Disponibili Che stiamo testando Quindi Plant4 L'ultimo Stabilimento Che abbiamo prodotto È stato costruito Per la sostenibilità In tutti gli aspetti Di ambiente Di economia E di etica Abbiamo ormai Un riciclo Di 9.000 tonnellate Di PET riciclato Equivalente A 240 milioni Di bottiglie L'anno In continua crescita Cresciamo mediamente Del 10-12% L'anno Su questo Il materiale Viene raccolto Consegnato a noi Già predisposto Purificato Sortito Per colore In Italia Abbiamo almeno 8-10 colori diversi Il verde Il blu Il bianco Il trasparente E comunque Per le nostre ricette Prendiamo il materiale Che più Ci conviene Abbiamo 10.000 metri quali Dedicati esclusivamente Allo sviluppo Di prodotti Da riciclo Con oltre 18 isole Ormai messe A disposizione Completamente Automatiche Che producono Il prodotto Trasformano La scaglia Addirittura Il PET In scaglia Neanche rigranulato Direttamente In prodotto finito Questo ci ha costato 4 anni di esperienza Nello sviluppo Di tecnologie E di processi Dedicati al PET Il PET È altamente Igroscopico Vale a dire Che quando noi Lo portiamo a casa Dobbiamo disidratarlo Per 6 ore Altrimenti Quando si mette Nel cilindro Della pressa L'acqua Che contiene Igroscopicamente Crea un'esplosione Quindi noi Dobbiamo assolutamente Essiccarlo E dopo si può Iniettare Per fargli Prendere forma Già oggi Noi Siamo arrivati Nel 2018 Ad avere Il 68% Di materiali Riciclati Nella nostra Gamma di prodotti Vale a dire Che Con il Plant 4 Noi siamo Proiettati Nell'arco Di prossimi 3 anni A arrivare Al 90% Abbiamo un target Di arrivare Al 100% Nel 2025 Non ci riusciremo Probabilmente Ma se manchiamo Manchiamo di qualche punto E appunto I prodotti Che ne derivano Sono prodotti Che possono A loro volta A fine della loro vita Essere nuovamente Riciclati Come il vetro Come la carta Come il legno Ovviamente Le nuove frontiere Sono questi materiali Che derivano Da queste biomasse Come stamattina Il professor Paoli Diceva È incredibile La velocità Di crescita Di queste piante Le tre piante In natura Che hanno La velocità Di crescita Maggiore Sono le alghe Appunto Nell'acqua Del mare La canna Da zucchero E il bambù Bambù è una pianta Straordinaria Sia per la sua Struttura Molecolare Che anche Per la capacità Di fare fibre Tessili E polimeri Non solo Poi Noi ricicliamo Tutti gli scarti Di produzione Che siano poi Sacchi Contenitori Oppure Altri Materiali O prodotti scarti Durante la lavorazione Vengono tutti sortiti Per tipologia Noi abbiamo circa 250 materiali diversi Però li dobbiamo Suddividere Per famiglia In modo tale Che gli stessi Conferitori Del materiale riciclato Che noi Utilizziamo Come vergine Per produrre I prodotti Riconferiamo Gli scarti Per essere nuovamente Riciclati E per il trasporto Abbiamo sviluppato Anche riduzione Di cartoni Attraverso Scatale Colassabili Con nostri clienti Fedeli Tedeschi Mandiamo via Un tir Pieno Di cassette Da 40 x 60 30 Su pallet 80 x 120 Ogni 6 viaggi Di andata Pieni Ne torna indietro Uno Vuoto Con le casse Pronte per essere Riutilizzate Questo riduce La produzione Di cartoni E abbiamo eliminato Anche la riduzione L'utilizzo Dei pallet Perché Abbiamo convertito L'utilizzo di pallet In paper pallet Pallet di cartone Non ci volevo credere Quando nel 2013 Eravamo stati Invitati Forzatamente A utilizzare Il pallet di cartone Il pallet di cartone Ha una capacità Eccezionale Prima di tutto Di ridurre Il peso Il volume Perché anziché I 13 o 15 cm Di altezza E alto Solo 5 cm e mezzo Ha degli isocoli Che possono portare Fino a 400 kg Quindi non è una questione Di portanza Può resistere Nell'acqua Fino a 2 ore E soprattutto Ha una staccability Vale a dire La sovrapponibilità Nei camion Dei trasporti Dove noi abbiamo sviluppato Live pallet Il mezzo pallet Quindi due pallet da metro Però rimangono sempre 50-60 cm Ancora da utilizzare Quindi abbiamo sviluppato Il pallet di cartone Intermedio Come è Nella immagine In mezzo Quando abbiamo Quando abbiamo lo spazio Per mettere su il terzo pallet O live pallet Tagliamo il termo retraibile E mettiamo il terzo pallet In fila Noi spediamo Carichi pieni Non siamo autorizzati A spedire camion Che non siano Completamente Pieni Interporto Di pordenone Questa è la nostra zona L'area Tratteggiata in arancione Dove c'è la stazione Di scarico E carico Dove ci sono Quattro binari Ed escono Treni interi A normativa europea Ieri L'hanno proposto E l'hanno Così inaugurato È un sito importante È il più importante Del Triveneto Uno dei più importanti In Italia E questo Permetterà Un grossissimo sviluppo Di connessione Interconnettività Col porto di Trieste Il porto di Venezia Abbiamo La ferrovia Con la linea rossa Abbiamo la ponte bana Con la linea blu Abbiamo l'autostrada Con la linea verde Quindi abbiamo ridotto Anche L'emissione di CO2 Nel trasporto Il nostro partner Ci ha fortemente Indicato Di unire Produzione Magazzino In un'area Quanto più prossima Al carico su treno Noi spediamo Ripeto 200.000 pallet L'anno A questo cliente E dobbiamo andare Nell'arco Dei prossimi 10 anni Totalmente Su rotaie Non va avanti E così Questo Intermodale È già Un progetto Come gli aeroporti Che si connettono Uno con Scalo Sull'altro L'Europa Si è dato Un target E questa è una legge Europea Per arrivare Entro il 2030 Ad avere almeno Il 30% Di carico Su rotaia Ovviamente Per andare Per andare a prelevare I materiali Dalle presse All'altro E soprattutto Abbiamo anche Il factory board Che dà E indica Tutti i nostri Operatori Oltre che La formazione A cui diamo Per almeno Il 2% Del lavoro Come istruzione E formazione Anche la disponibilità Di tutti i dati E avere i risultati Del loro lavoro Questo è Grossomodo Il layout Dell'impianto Produttivo Che è stato messo A tergo Del magazzino Abbiamo fatto Grossissimi investimenti Nel 2018 12 milioni Di euro In presse E automazioni Più 6 milioni Di installazioni Tecnologiche E 8 milioni Di costruzione E così Da qua Il 2019 Il 2022 Abbiamo altri 14 milioni Pianificati Abbiamo fatto Anche la lean transformation Perché tutto Si basa Di un progetto Unico Condiviso Per ottenere Risultati Con il minor Impegno Di energia E di sforzo Quindi Non vi descrivo Le varie fasi E lo slogan Che il fondatore Di quell'azienda Purtroppo mancato L'anno scorso Diceva Ad ogni fine Di una riunione Dice The most remains To be done Vale a dire Il più rimane ancora Da fare Grazie Diceva